Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar organizzato da Dental Leader in collaborazione con Ultradent Italia. Voglio ringraziare innanzitutto il nostro partner commerciale Dental Leader, nella persona di Alessandra D'Angelo, che è la Marketing Manager. Come sapete, Dental Leader vuole offrire la miglior convenienza dal punto di vista commerciale, ma anche offrire un supporto culturale organizzando questi webinar molto interessanti. Con noi oggi avremo il dottor Pietro Sibilla, grandissimo esperto di sbiancamento dentale ed estetica dentale, che esercita a Ferrara, e il responsabile Sales and Marketing di Ultradent Italia, il signor Paolo Ricciarelli. Io sono Francesco Gualtieri, Product Specialist di Ultradent, saluto anche i miei colleghi Luca Giuffrida, Vincenzo D'Andretta e Raffaele Calafiore. Grazie mille di essere qui, vedo che siete già tantissimi, anche le iscrizioni sono state notevoli. Questo è un bellissimo segnale appunto perché la richiesta e l'esigenza di uno sbiancamento dentale è sempre più pressante in tantissimi studi. Oggi vedremo anche, insieme al dottor Pietro, il modo di comunicare con lo sbiancamento e le varie alternative che possono essere usufruite dai vari pazienti e dalle varie esigenze. Buongiorno Pietro. Buongiorno, ciao Francesco, ciao Paolo, ciao a voi, ciao a tutti. Io direi di iniziare subito perché così dopo pranzo dobbiamo tutti quanti andare a lavorare e perciò lascio la parola a te a Pietro. Perfetto, grazie Francesco. Allora io condivido il mio schermo. Prego. Ecco, quindi farò io una prima parte e poi avremo la possibilità di chiedere il supporto di Paolo che ci farà vedere alcune diapositive molto molto interessanti. Oggi per voi ho scelto diciamo un argomento che è sempre più attuale in termini di sbiancamento. Quindi la proposta dello sbiancamento, come fare a proporre lo sbiancamento al paziente e come fare anche a rispondere alle domande del paziente. Cioè sapere cosa dire quando il paziente ci fa delle domande che potrebbero essere anche un po' scomode. Quindi inizio subito la mia relazione facendovi vedere qualche caso clinico, cioè facendovi vedere quello che voi potreste trovare tutti i giorni nel vostro studio. Questo ad esempio è un paziente che presenta delle macchie bianche, quindi il motivo per cui si presenta da voi è essenzialmente il problema estetico che nota di più, quindi la macchia bianca. E' anche vero però che questo paziente va gestito, bisogna sapergli rispondere, sapere come fare a gestire il suo caso e sicuramente qui vedete una soluzione che passa attraverso lo sbiancamento e poi attraverso la gestione della macchia bianca. Ma così posso farvi vedere anche quest'altro paziente che si è presentato con questa situazione, facendo delle richieste, delle domande, certe volte anche non semplici a cui rispondere. E per questo oggi io voglio darvi le risposte che dovete dare al paziente quando vi trovate a casi come questi. E questo è un caso che è stato gestito ovviamente con lo sbiancamento, con le ricostruzioni, ma poi anche con le faccette, quindi dei restari estetici indiretti sugli anteriori. Oppure dei pazienti come questi che vengono con una richiesta generica di migliorare il sorriso, cioè di avere una soluzione per questo inestetismo generale. E noi dobbiamo sapere cosa dire a questo paziente e soprattutto come gestirlo. Per cui un paziente come questo è stato gestito con l'ortodonzia, ovviamente con lo sbiancamento, come vi farò vedere, con dei restari indiretti, ovviamente sì, con delle faccette su settori anteriori e settori posteriori. Oppure dei pazienti come questi che ovviamente hanno dei problemi lampanti, quali quelli delle discromie. Guardate quanto sono oscuri i canini, ad esempio, e i settori posteriori. Ma anche gli incisivi laterali, abbiamo un conoide e un incisivo sottodimensionato. È ovvio che sicuramente la soluzione di questo caso passa per l'ortodonzia, ma certamente anche per lo sbiancamento e poi dei restari indiretti. Quindi sono state fatte delle faccette anche sugli incisivi laterali. E quindi noi dobbiamo sapere, e oggi vi dirò alcuni di questi trucchi, cosa dire al paziente quando lui ha bisogno di chiarimento, ha bisogno di conforto riguardo alla sua situazione clinica. E un caso come questo, ad esempio, è un caso invece in cui è logico pensare all'ortodonzia, ma diventa importante integrare nel suo piano di trattamento anche lo sbiancamento e la gestione della conservativa piuttosto che quello della macchia bianca, che è un altro aspetto che assieme all'ortodonzia riusciamo a gestire in maniera corretta. Bene, rispondiamo quindi a queste domande, cioè come mi comporto davanti a delle discromie difficili? E poi, come guido il paziente prima, durante e dopo il trattamento sbiancante? E poi, cosa rispondo al paziente che o non collabora, o collabora poco, o rifiuta per una questione di costo il trattamento sbiancante, così come eventualmente anche altri trattamenti? Bene, io ho individuato una serie di pazienti tipo, e qui vi faccio vedere quello che ho realizzato. Praticamente i pazienti cosiddetti casi tipo 1, questi sono dei pazienti che noi troviamo nel nostro studio, che regolarmente vengono a chiederci consulenza in studio. Ecco, i pazienti casi tipo 1 sono quei pazienti che hanno delle discromie importanti. I pazienti tipo 2 sono, ad esempio, i pazienti che hanno necessità ortodontiche e magari hanno anche le macchie bianche. I pazienti tipo 3 sono dei pazienti che hanno la necessità di fare o dei restauri o delle faccette, quindi sia qualcosa di parziale, sia qualcosa di invece magari delle coperture integrali nei denti. Poi possiamo avere dei pazienti casi tipo 4, dove riconosciamo, ad esempio, degli elementi devitali, quindi elementi che sono stati devitalizzati e che magari hanno subito una colorazione che è, diciamo, non piacevole per il paziente. Quindi magari il paziente come questo si presenta proprio perché ha uno o più denti molto oscuri. Poi abbiamo, ad esempio, dei pazienti di casi tipo 5, che sono i pazienti tutto e subito, cioè quei pazienti che vorrebbero lo sbiancamento in pochissimo tempo, così come vorrebbero restare in pochissimo tempo. E quindi dopo vi farò vedere come questo tipo di pazienti. Un'altra possibilità sono casi tipo 6, che sono i pazienti fai da te, cioè quei pazienti che pretendono o desiderano eseguire lo sbiancamento con dei prodotti che trovano o su internet o in farmacia. Altre possibilità, casi tipo 7, il paziente ipersensibile, cioè quello che potrebbe avere una sensibilità maggiore rispetto ad altri. Il paziente casi tipo 8, che è il paziente basso spendente, quindi il paziente probabilmente con una ridotta disponibilità economica. E il paziente casi tipo 9, cioè il paziente che ha paura della recidiva, cioè quindi il paziente che non fa lo sbiancamento perché pensa che i denti possono ritornare del colore precedente. Bene, io per oggi ho fatto una selezione e ho scelto per voi alcuni argomenti. Ho scelto i pazienti casi tipo 1, quelli delle discromie importanti, perché ritengo che se riuscite a trattare le discromie importanti, quindi se sapete cosa fare con le discromie importanti, sicuramente tutto il resto del trattamento è in discesa. Cioè avete la possibilità di gestire molto molto semplicemente quei casi invece, cosiddetti cosmetici o semplici, che sono diciamo molto molto più frequenti. Poi ho scelto i casi tipo 3, quindi i pazienti che devono fare delle riabilitazioni con restari o faccette, i casi tipo 5, cioè il paziente tutto e subito, e i casi tipo 8, il paziente basso spendente. Ecco, tutte le volte, vi aggiungo questa informazione, tutte le volte che vedete in basso la macchina fotografica nelle mie diapositive, è perché per me quella diapositiva è una diapositiva che contiene un concetto importante, che ha bisogno di essere ricordato, quindi potete fare uno screenshot o porre maggiore attenzione su questo aspetto. Benissimo. Altra cosa che vi fornirò oggi, perché il mio obiettivo è che voi affrontiate nei prossimi giorni almeno uno o più trattamenti sbiancanti, che adesso magari avete tenuto da parte, è quello di fornirvi una risposta per i pazienti. Cioè vi dirò per ognuna di queste tipologie di pazienti che ho selezionato per voi, che cosa dire esattamente al paziente? E se dite la risposta che vi ho segnato, che poi vi dirò, sono certo che funzionerà, che avrete più semplicità nel trattamento di questi pazienti. Per cui procediamo con il caso tipo 1. Il caso tipo 1 è quello che riguarda effettivamente le discronie importanti. Per spiegarvi questo concetto ho la necessità di fare una piccolissima premessa per spiegarvi qual è la tipologia di sbiancamento che voi dovete adottare. In pratica, in commercio, oggi abbiamo due possibilità principali. Il perossido di hidrogeno, che qui vedete colorato di rosso, e il perossido di carbamide, che vedete colorato di azzurro. Una cosa importante da ricordare è che il 10% di perossido di carbamide coincide con il 3,6%, quindi un 4% circa, di perossido di hidrogeno. E il 16% di perossido di carbamide equivale a un 5,8% di perossido di hidrogeno. Benissimo, ma io con quale criterio io clinicamente scelgo se sbiancare i denti col perossido di carbamide o il perossido di hidrogeno? Vi spiego attraverso questo grafico, che considero molto molto importante, quali sono i criteri di scelta. Se prendiamo in considerazione questo grafico, dove vediamo su questa linea il tempo e su questa linea la percentuale di rilascio, quindi diciamo che la percentuale di rilascio, quando aumenta coincide con una aumentata liberazione di ossigeno, e quindi una aumentata capacità di sbiancare i denti, se applichiamo al tempo zero del perossido di hidrogeno, quindi seguiamo questa linea rossa, viene messo il perossido di hidrogeno sugli elementi dentali, questo agisce liberando ossigeno in maniera molto molto veloce, in maniera molto importante, fino ad arrivare al suo picco, che coincide con mezz'ora, 30 minuti. Dopodiché il perossido di hidrogeno tende a perdere la sua efficacia, calando e andando a zero praticamente entro l'ora, l'ora e mezza. Quindi diciamo questo, il perossido di hidrogeno è un trattamento che io dovrò tenere applicato sui denti per 60 minuti, e qui ho il massimo dell'effetto, se lo tengo di più probabilmente non ottengo un effetto sbiancante nelle ore successive. Mentre per quello che riguarda il perossido di carbamide, ovviamente seguo la linea azzurra, al tempo zero, quando viene applicato sui denti, c'è un aumento della liberazione dell'ossigeno, fino ad arrivare a un picco che è intorno alle due ore, ma poi rimane costante e si abbassa lentamente nelle ore successive. Per cui se devo scegliere un trattamento dove il gel rimane sui denti per diverse ore, ovviamente andrò a scegliere un perossido di carbamide, e questo ovviamente è un dato molto molto importante, per cui se decido che voglio utilizzare il perossido di hidrogeno ad alte concentrazioni, parliamo di concentrazioni del 35-40%, è un trattamento che io riservo a denti, che sono denti vitali e denti non vitali, potrebbe essere utilizzato con lampade e laser, ma poi vi dirò cosa dico al paziente in merito a questo aspetto del power bleaching, e ovviamente per avere un risultato attendibile devo effettuare da una a tre o più sedute di sbiancamento con perossido di hidrogeno ad alte concentrazioni. Per farvi vedere un caso clinico, questo è il caso clinico in cui viene campionato il colore, vedete si tratta di una discromia abbastanza accentuata, diciamo una trema con un valore basso, su cui applichiamo il boost al 40%, qui c'è l'isolamento del campo operatorio con la diga liquida, l'applicazione del gel, e questo è il risultato del trattamento con perossido di hidrogeno al 40% di una seduta. Ovviamente questa seduta può essere aumentata, possono essere ripetute più sedute, a distanza ovviamente di una settimana. Vi faccio un riassunto attraverso questo video, il grafico, e vi dico esattamente le fasi in maniera molto molto rapida di quello che dovete fare quando fate un trattamento alla poltrona con perossido di hidrogeno al 40%. Dovete effettuare un polishing degli elementi dentali, quindi con lo spazzolino e una semplicissima pasta da profilarsi, scegliete il gel da utilizzare sui denti, ovviamente il gel va posizionato sui denti quando è a temperatura ambiente, quindi non va tenuto in frigorifero, altrimenti non funziona, oppure funziona dopo un po' di tempo che viene applicato, posizionate la diga liquida, miscelate, attivate il gel, posizionate il gel sui denti e lasciate il gel 45 minuti muovendolo ogni 5 minuti. Dopo 20 minuti potete aggiungere il gel, se vedete che è necessario aggiungere un po' di gel sugli elementi dentali. Poi rimuovete il gel con l'aspiratore, lavate ed eventualmente mettete il desensibilizzante se lo ritenete utile. Parleremo poi successivamente del desensibilizzante da usare in questi casi. Eventualmente ripetete facendo un'altra seduta dopo sette giorni, dopo sette giorni perché rivalutate il colore del paziente, rivalutate un'eventuale presenza di sensibilità e decidete gli step da seguire. Quindi diciamo se volete effettuare uno sbiancamento con questo prodotto alla poltrona in office, queste sono le indicazioni per l'utilizzo del booster al 40%. Se invece volete fare un trattamento domiciliare con mascherine domiciliari, utilizzerete, come vi ho spiegato, il perossido di carbamide. Perché? Perché è un prodotto che effettivamente agisce e ha il suo effetto durante le ore di applicazione con le mascherine. E se utilizzate il 10%, l'indicazione è quella di tenere le mascherine con il gel sbiancante per otto ore, se usate il 16% per quattro ore. La cosa che mi preme trasmettere in questo caso è quello dell'utilizzo di mascherine rigide. Le mascherine rigide sono queste, qui vedete una mascherina sul modello in gesso, ed è una mascherina che assomiglia molto a una contenzione ortodontica. Ha lo spazio per il gel, 0,5 mm di spazio per il gel. Lo spazio per il gel è quel colorante azzurro che vedete adesso sul modello. E la mascherina indossata, secondo questa tecnica che abbiamo formulato assieme al collega Enrico Covo e Roberto Turini, è la tecnica del modello bisellato. Prevede di utilizzare queste mascherine rigide con un particolare taglio, il trattamento del modello in gesso che potete vedere in questa immagine, ma i vantaggi dell'utilizzo di una mascherina rigida fatta così sono sicuramente che è molto molto precisa, non fa uscire il gel durante il trattamento, non si deforma durante la notte se il paziente dovesse schiacciare i denti, quindi il gel rimane sul dente, è più efficace e non va sulla gengiva. Vi faccio vedere adesso un caso clinico di un paziente che parte da un colore A3 con un valore basso, su cui è stato effettuato uno sbiancamento con queste mascherine che vedete adesso montate sui denti del paziente, con l'opale CNSPF al 10%. Quindi questa persona ha ottenuto attraverso lo sbiancamento domiciliare questo tipo di risultato. È facilissimo notare il cambiamento di colore se osservate gli elementi posteriori dove effettivamente il gel non è stato posizionato. Questa è una foto che vi mostra il prima e il dopo il campione della scala colorivita e questo è ovviamente il sorriso della paziente prima e dopo il trattamento, utilizzando appunto questo prostitucarbamide al 10% per 21 notti. Ecco, vi ho spiegato quelli che sono i metodi per trattare le discromie difficili. Ovviamente più la discromia è difficile più ci orienteremo verso un trattamento che è fatto domiciliare, quindi un trattamento a bassa concentrazione per lungo tempo. Vi devo dire che cosa rispondo ai pazienti. Quando un paziente mi chiede come funziona lo sbiancamento, di cosa si tratta, quello che dico io è proprio quello che vi sto facendo leggere in questo momento. Cioè, io dico, esistono tre tipi di sbiancamento. Quello alla poltrona, dove si usa un gel ad alta concentrazione che viene posizionato sui denti per un'ora e si fanno da una a tre sedute. Lo stesso tipo di trattamento si può fare con l'aggiunta della lampada o del laser, ma che però non funziona, cioè non aggiunge niente al gel che usiamo per fare questo sbiancamento. E poi c'è quello che consiglio a te che è quello fatto con le mascherine, con un gel a bassa concentrazione per la durata di 15-20 notti. Questi tempi che vi sto dicendo sono i tempi medi che utilizzo nel 99% dei pazienti. A queste frasi, ovviamente, aggiungo anche altri aspetti. Perché il paziente mi chiede, ma io come utilizzo le mascherine domiciliari? Allora, è molto semplice, i pazienti sono molto, molto collaboranti nel momento in cui voi siete sicuri e date le istruzioni molto corrette. E io al paziente dico, queste mascherine le porti per 14 notti, poi ci vediamo per un controllo dove valutiamo come procedere. Ogni sera metti un clicco di riso all'interno della mascherina, un clicco di riso di gel all'interno della mascherina e lo metti dove ti indico io, ti dirò io i denti su cui devi trattare. Comunque, quando sarai a casa, avrai la possibilità di rivedere un video che ti mando via WhatsApp che ti serve da pro memoria. E qui vi faccio vedere un video a cui accede il paziente quando è a casa, un video caricato su YouTube, che vi fa vedere quello che spiego al paziente. Lo commento insieme a voi per farvi capire un po' le informazioni che do. Ecco, queste sono le mascherine. Io consegno sempre quattro siringhe al paziente, ma lo rivedo dopo 15 giorni ed eventualmente consegno altre siringhe. Faccio vedere che c'è un tappo che sigilla la siringa e che il tappo serve anche per proteggere il gel tra un'applicazione e l'altra. Girando il tappo il gel viene protetto in modo tale che non si ossia, non entri a una siringa, diventi, si rigidisca il gel. E poi spiego che il gel va posizionato nella parte anteriore della mascherina, nella parte vestibolare, e faccio vedere con la siringa come distribuire il gel. Ovviamente il mio consiglio è di tenere una siringa di gel o di glicerina nel cassetto quando mostrate questa cosa al paziente. Ovviamente dico anche che sono io, come dicevo, ad indicare i denti da trattare. Generalmente se il paziente non scopre non farò mai trattare i denti posteriori, gli utili molari. In alcuni casi invece faccio trattare anche quegli elementi. E poi dico che dopo aver indossato le mascherine se dovesse uscire del gel, la volta dopo mettono meno gel e toglielo con uno spazzolino con il dito. Poi di lavare le mascherine e la cosa a cui fare attenzione ovviamente è quello di non lavare con acqua calda o di mettere nell'acqua calda le mascherine perché si possono rovinare. Benissimo, io vi ho parlato delle discromie importanti, come trattarle, e a questo punto lascerei la parola a Paolo che in questo momento si è alla possibilità di collegarsi. Io sono tutto orecchi Paolo perché so che è una lezione interessantissima. Ti ringrazio Pietro della parola e ho trovato molto interessante tutto ciò che hai detto e in particolar modo dal mio punto di vista come gestisci i flussi di lavoro. Veramente un qualcosa, un approccio che poi rivedremo anche in qualche modo nella presentazione che sto andando a condividere. Grazie. Provo ad andare online. Ecco, io adesso vedo il tuo schermo. Perfetto, proprio quello che non volevo. Adesso? Perfetto, è partita la presentazione. Siamo. Beh, innanzitutto ringrazio Dental Leader che ci ospita quindi mi leggo al saluto di Francesco Iniziale e cercherò per quanto mi riguarda di fare con voi una breve passeggiata in quello che è il mondo del marketing. Parlare di marketing per un quarto d'ora diventa praticamente impossibile. ci vorrebbero veramente anni di lezione anche perché poi comunque il marketing e lo vedremo in qualche slide è veramente cambiato tantissimo negli ultimi anni. Però cercheremo in qualche modo e maniera di parlare dei numeri che sono legati al mondo dello sbiancamento dentale ai numeri che ci hanno portato ad avere all'interno di una di un webinar dello sbiancamento dentale delle slide appunto che ci parlano di marketing e di comunicazione. Innanzitutto ci tenevo a presentare la nostra azienda. Chi siamo? Beh, siamo Ultradent. Siamo Ultradent una multinazionale americana che ha sede a Salt Lake City nello Utah che ha circa 1700 dipendenti e opera in 125 paesi nel mondo. Produciamo e distribuiamo grazie ai nostri distributori sul territorio mondiale oltre 500 materiali e dentali quindi un portafoglio di prodotti abbastanza interessanti dove comunque il nostro fiore all'occhiello lo fa l'argomento principe di questo di questo webinar che è appunto lo sbiancamento dentale. Uno dei numeri che mi piace sottolineare che vediamo dopo questi sono il numero di sorrisi che anche grazie a voi abbiamo potuto regalare alle persone ai nostri pazienti in questi anni di onorato servizio. 100 milioni di sorrisi marchiati Opalescence. Quello che cercheremo di capire oggi è come vi accennavo prima è un un accenno un piccolo passaggio all'interno del mondo del marketing. Il marketing è una scienza è l'arte di esplorare creare fornire valore generale desiderio o quant'altro. Il marketing è esploso nel grazie al mondo digitale e che ha ampliato la sua definizione stessa. Fare marketing oggi significa curare le relazioni di clientela in un modo che anche solo fino a qualche decennio fa non era neanche pensabile. Per vendere occorre comunicare in maniera efficace il valore della proposta. Il marketing non è solo fare pubblicità o trovare il modo di vendere di più e meglio. Quella è solo la parte finale. Il vero marketing inizia nel momento in cui si vuole creare un prodotto o un servizio e finisce con il servizio di assistenza ai clienti. Un po' quello che stiamo facendo in qualche modo oggi cercando di sciogliere qualche nodo grazie al dottor Pietro Sibilla e al supporto prezioso di Francesco per quanto riguarda appunto il prodotto stesso. Accanto alla parola marketing ultimamente è stata affiancata un'altra parola molto interessante che è wellness quindi è nato un nuovo marketing il wellness marketing che è fondamentalmente un nuovo trend di mercato. È un trend che si sta diffondendo con forza sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta trasformandosi come abbiamo scritto e trasformando radicalmente le logiche di business. Se vi ricordate qualche tempo fa uno studio dentistico non era altro che una stanza con un riunito e un bravo professionista mentre invece adesso lo studio dentistico è diventato una vera e propria clinica del sorriso veniamo accolti da video che parlano di noi da Totem che raccontano i nostri prodotti da Deplian che in qualche modo fanno pensare al cliente al paziente stesso di un percorso che viene fatto all'interno del nostro studio dentistico non ultimo l'abbiamo visto molto interessante quello che ci ha fatto vedere il dottor Pietro Sibilla diamo dei video al paziente nel momento in cui torno a casa per raccontargli quello che devono fare al meglio per ottenere il miglior risultato possibile dalla nostra lavorazione ma il marketing è in tutto ciò che ci circonda abbiamo visto come negli anni anche per esempio le farmacie sono cambiate una volta la farmacia era un posto dove fondamentalmente venivano venduti i farmaci mentre invece adesso le farmacie sono veri e propri retailer sono merchandising punti in cui troviamo Totem legati al benessere alle creme per la salute e sempre di più stiamo andando e ci stiamo orientando verso appunto il wellness legato appunto alla persona stessa ultimo ma non ultimo esempio quello delle palestre andare in palestra qualche anno fa voleva dire mettersi a fare dei pesi un po' di sollevamento e soprattutto sudare mentre invece adesso le palestre sono diventate dei centri a 360 gradi per la cura del corpo un'evoluzione in tutto il mondo che ci circonda ho portato tre esempi ma ne potevo fare veramente tantissimi tantissimi altri e questo cambiamento dove lo notiamo dove lo viviamo quali sono i momenti in cui veramente riusciamo a carpire queste queste modifiche del nostro del nostro mondo beh fondamentalmente il mondo dei social aiuta tantissimo ad esplorare e a cercare di vedere per esempio la differenza tra uno studio dentistico e un altro perché sempre più pazienti si fanno selfie anziché fanno i video di quando entrano nello studio del loro dentista no? proprio perché sono diventate cliniche del sorriso nello stesso tempo abbiamo input costanti che ci vengono dalla televisione da luoghi come Netflix anziché Sky o quant'altro ultimo ma non ultimo il nostro cellulare i nostri advice che teniamo sempre con noi e che in qualche modo ci tengono sempre super connessi con il mondo tutto ciò ha fatto sì che il mondo del dentale il mercato del dentale e questi sono i numeri dei quali vi volevo parlare hanno subito un incremento poi dopo andremo a vedere nello specifico perché il mercato del dentale questi sono dati che vengono forniti dalla più autorevole azienda agenzia dei numeri del nostro del nostro settore che si chiama Keystone i numeri che andiamo a vedere sono numeri correlati dell'anno scorso correlati però al 2019 perché il 2020 purtroppo causa pandemia non fa veramente testo il mercato dentale in questo 2021 è incrementato del ben 16% considerate che l'hanno fatta da padrone in questo fatturato in questo volume importante ovviamente quelli che sono i dispositivi di protezione i DPI che hanno inciso in maniera decisamente solida per quanto concerne i numeri di fatturato Ultradent che non ha purtroppo questo tipo di prodotto è cresciuta del ben 17,5% quindi Ultradent ha performato più del mercato stesso il bleaching quindi il comparto del quale noi stiamo parlando oggi è cresciuto nel 2021 rispetto al 2019 del 12,3% Opalescence che è un brand dello sbianchamento di Ultradent ha fatto oltre il mercato quindi ha performato oltre il mercato ed è andato a chiudere con un più 29,1% perché? Cosa è successo in realtà nel nostro mondo? Quali sono le cause di questo cambiamento? Andiamo a vedere nello specifico i numeri fondamentalmente la nostra crescita è una crescita che sta perseguendo e sta seguendo già da questo trend già da parecchi anni come vedete nella parte destra della slide lo sbianchamento dentale è cresciuto dal 2010 al 2019 del 77% e questa è soltanto una piccola parte perché con l'avvento della pandemia di questo periodo così triste che ci ha visto reclusi in casa che soprattutto ha sviluppato quella parola nuova che abbiamo imparato il distanziamento sociale e quindi ci ha purtroppo allontanati per un lungo periodo ma nello stesso tempo cosa ha fatto? Ci ha avvicinato ci ha avvicinato socialmente perché in qualche modo e maniera eravamo anche se chiusi nelle nostre stanze nelle nostre case o magari lo smart working del nostro quotidiano eravamo comunque super connessi con il mondo super connessi con il mondo che cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo vuoi con appunto le piattaforme vuoi con la DAD che molti che molti hanno fatto studenti universitari o i nostri figli stessi o con i nostri social che ci hanno visto interconnessi continuamente con amici o quant'altro hanno fatto in modo che ci fosse un confronto un confronto con gli altri perché non è mai successo o succede veramente raramente che per così tanto tempo ci vediamo ad una distanza così limitata e ci confrontiamo soprattutto con gli altri ad una distanza così ravvicinata con una telecamera e quindi abbiamo cominciato ad esplorarci a vedere i piccoli difetti a vedere come mai quella persona che ho sempre conosciuto che aveva i denti storti e gialli adesso se li ritrova dritti e bianchi confronto anche con piccoli inestetismi tant'è vero che siamo passati da un periodo che era selfie ergo zoom come si dice ad un periodo che viene definito come effetto zoom boom e questo perché appunto come l'hanno chiamato gli americani questa lockdown phase quindi il vedersi il confrontarsi il finalmente il come mi vedo ci ha portato a desiderare alla fine un cambiamento questo cosa ha esaltato ha esaltato l'edonismo stesso quella l'apparenza il voler comunque apparire nello schermo nel miglior modo possibile acquisendo una maggiore sicurezza per noi stessi e una migliore immagine esteriore di noi stessi si dice da delle ricerche americane veramente molto importanti che il 99,7% degli adulti americani ritiene che il sorriso sia una vera e propria risorsa nelle interazioni sociali quindi il sorriso veramente mi pone in maniera differente di fronte agli altri e addirittura il 74% considera un sorriso poco attraente come un ostacolo al successo in ambito lavorativo quindi se ho un brutto sorriso rischio che a quel colloquio magari non mi prendono è vero? non è vero? in parte sicuramente sì e la risultanza di questi dati che noi abbiamo sono l'incremento di numeri importanti dello smiancamento che abbiamo potuto constatare e valutare altra cosa fondamentale è il confronto come vi dicevo prima non soltanto nelle dirette come questa per esempio ma è un confronto anche con chi ci circonda e dagli input che ci arrivano dai social per esempio o dalle riviste che leggiamo tutti i giorni ecco io alla fine voglio riuscire a migliorare il mio sorriso come è riuscito a farlo Cristiano Ronaldo soprattutto quando poi mi affido a dei professionisti come voi che con poco tra virgolette riescono veramente ad allineare i miei denti e a rendermeli sicuramente più luminosi e più belli come quelli di Ilari Blasi che vediamo in questa in questa immagine questo confronto ci porta al desiderio e alla voglia costante di cambiare e di migliorarsi si dice quindi che lo sbiancamento dentale aumenta il grado di soddisfazione del nostro sorriso e vi è un collegamento tra il perfezionamento dell'estetica dentale e il miglioramento della percezione che abbiamo di noi stessi questo processo questo mondo nuovo che andiamo a toccare per quanto ci riguarda è legato a quello che viene definito marketing mix cioè tutte quelle leve di marketing che noi come aziende come brand quindi come studi dentistici come cliniche del sorriso dobbiamo andare ad operare per sicuramente cercare di migliorarci o quant'altro abbiamo parlato dell'importanza di proporre il nostro studio un po' come siamo noi quindi la P di physical place quindi cercare di migliorare l'ambiente dove accogliamo i nostri pazienti diventa veramente fondamentale l'attenzione al prezzo quindi riuscire ad adeguare il prezzo al paziente non tutti i pazienti sono uguali tutti vogliono ottenere quella cosa che hanno visto e per la quale si sono confrontati ma come diceva giustamente il dottor Pietro Sivilla Pietro perché è un amico caro Pietro e i pazienti si dividono in due gambe pazienti altospendenti e pazienti bassospendenti non possiamo porci nella stessa identica maniera e non possiamo proporre lo stesso identico prodotto a due pazienti differenti ecco perché la comunicazione diventa fondamentale riuscire a capire le esigenze del paziente quello che vuole quello che il paziente necessita e dove può arrivare e vuole arrivare diventa fondamentale ecco qui l'ascolto nella comunicazione diventa tutto si dice che noi abbiamo due orecchie e una bocca per ascoltare due volte e parlarne una ascoltiamo le esigenze del nostro paziente ascoltiamo e cerchiamo di capire che cosa vuole e a quel punto creiamogli la P di promotion la giusta promozione il giusto approccio per quanto concerne la sua richiesta una delle leve delle parole delle P più importanti del marketing mix è people quindi l'attenzione alle persone tanto le persone del nostro studio che poi sono quelle che parleranno con i pazienti stessi perché tutto lo studio deve sorridere tutto lo studio deve accogliere non soltanto voi che fate la fatica di stare in studio 8, 9, 10 ore al giorno ma ogni singola persona dello studio deve essere allineata a voi per seguire il giusto processo come ci diceva il dottor Sibilla prima e quindi fondamentalmente la regola aurea del marketing come dice Philip Kotler proponetevi ai vostri clienti come vorreste che si proporessero a voi quindi cerchiamo di andare incontro al nostro al nostro paziente nel migliore dei modi anche sfruttando quelli che sono dei processi aziendali che in qualche modo toccano ogni punto del nostro studio e del nostro processo non solo lavorativo vero e proprio la comunicazione diventa veramente una chiave di volta importante come lo diventa la conoscenza del prodotto quindi riuscire a capire quale giusto prodotto proporre diventa fondamentale ecco perché in uno speech come questo in un webinar come questo è presente un esperto di prodotto come Francesco che ci aiuterà a capire quali sono le giuste leve da utilizzare e i giusti prodotti da proporre quindi ci sono prodotti per lo sbiancamento casalingo e economici anziché dei prodotti come l'abbiamo visto nel caso appunto dello sbiancamento alla poltrona che possono essere fondamentali per il nostro quotidiano e lo sbiancamento quindi diventa e l'abbiamo visto dei numeri che crescono quotidianamente una grandissima opportunità qui ho scritto grande ma in realtà è una grandissima opportunità per lo studio dentistico anche perché fondamentalmente il bacino di utenti è già all'interno del nostro studio abbiamo già i pazienti che per esempio come ci diceva prima Pietro hanno fatto un percorso con delle mascherine di allineamento e allora perché non sfruttare quelle mascherine stesse facendo dei richiami ad hoc per proporre il nostro PF per esempio per fare lo sbiancamento casalingo con quelle stesse mascherine i costi si riducono e diventa fondamentale riuscire a proporre a un paziente che per esempio fa un percorso di allineamento dentale e dirgli alla fine arriverai non soltanto con i denti allineati ma con i denti molto più bianchi l'importanza della comunicazione del flusso dell'informativo è fondamentale non smetterò mai di dirlo è un qualcosa che cercheremo anche di approfondire in futuro sempre di più linkato a questo la conoscenza del prodotto diventa veramente importante per noi riuscire a capire quale prodotto abbinare alle giuste esigenze del nostro paziente affidarsi a professionisti del settore è fondamentale per gestire qualsiasi richiesta e questa ha un doppio canale per il paziente è giusto affidarsi a voi come migliori professionisti del settore come è giusto per voi riuscire a affidarsi a persone come per esempio gli specialist di prodotto di Ultradent che non si limitano soltanto a farvi vedere il prodotto ma entrano in merito di quelle che sono le ricerche scientifiche o ai supporti per esempio di marketing che vi possono essere utili per garantire la migliore prestazione possibile tanto per voi quanto per il paziente stesso la comunicazione è lo scambio di informazioni tra due o più entità in grado di emettere e ricevere i segnali intendendo per scambio un processo interattivo per cui è presente un meccanismo di feedback questa frase è meravigliosa cioè dobbiamo sempre avere un confronto e un ritorno ho visto e sto vedendo siete tantissimi 800 persone ad un webinar a quest'ora siete veramente tantissimi ma vedo altre tante domande veramente tantissime nel panel che adesso andremo poi a vedere insieme e queste domande sono il feedback lo stesso feedback che noi dobbiamo dare ai nostri pazienti nel momento in cui vengono incuriositi entrano incuriositi o vengono incuriositi da noi nel nostro studio per ottenere un sorriso decisamente migliore detto questo io vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola al nostro regista Francesco che gestirà al meglio il nostro webinar grazie mille Paolo sono arrivate un sacco di domande sia per la parte precedente molti complimenti per la tua parte che è stata molto interessante e direi visto che si è fatta una certa e la gente deve tornare anche a lavorare perché mi chiedono ma ci sarà la registrazione sì ci sarà la registrazione senza ombra di dubbio vi verrà inviata una mail attraverso il leader e ora lascio la parola a Pietro per la sua ultima parte che sarà anch'essa molto molto interessante Francesco mi levi tu la condivisione? sì grazie 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 Paolo davvero molto molto interessante ho preso appunti avrò anche qualche domanda da da farti adesso come diceva Francesco abbiamo la necessità di capire un po' le esigenze rispetto alle scelte che ho fatto io oggi quindi io ho scelto le discorso importanti di cui vi ho parlato il prossimo argomento è quello del restare faccette paziente tutto e subito paziente basso spendente avrei la necessità di capire da voi magari se qualcuno di voi scrive sulla chat quella che è la cosa che interessa di più così partiamo da quella e siamo sicuri di riuscire a condividere tutti assieme un'apoteosi di casi tipo 8-8-8 che è paziente basso spendente perfetto paziente basso spendente vi vado a cercarvi la la diapositiva quel paziente che ha o poca disponibilità economica oppure quello che non dà il giusto valore lo sbiancamento non dà giusto valore lo sbiancamento perché questa cosa in realtà coinvolge anche noi cioè forse noi non siamo riusciti a trasmettere quello che è il valore del trattamento sbiancante quindi in questi casi noi dobbiamo lavorare sul valore facendo capire quello che è il trattamento quello che il trattamento che proponiamo è il trattamento migliore per lui quindi dobbiamo far capire quella che è e giustificare a lui il prezzo del nostro trattamento ovviamente esistono questi trattamenti basso spendente come ci diceva prima a e e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questo caso vedete un paziente che è partivo da una tremezzo e è arrivato a due, ma questo è un paziente che ha una discomia per me abbastanza complessa e su questo paziente poi abbiamo fatto, dopo l'Opalation's Grow, abbiamo fatto anche le mascherine al 10%, per cui ovviamente questa è una nostra cavia perché noi facciamo un sacco di esperimenti sui pazienti. Il paziente, vedete, partiva nella prima foto da una tremezzo, è arrivato con l'Opalation's Grow a un A2, che è questa foto che vedete. Poi abbiamo fatto le mascherine, quelle personalizzate con la metodica che vi ho fatto vedere nelle positive precedenti, quindi un Opalation's PF al 10% e siamo arrivati a questo tipo di risultato. Ovviamente molti dei nostri pazienti con questo tipo di trattamento possono essere già soddisfatti del risultato che hanno ottenuto e questo risultato lo si può ottenere ovviamente ad un costo sicuramente inferiore. Per cui una valida alternativa che non dà ovviamente gli stessi risultati di un trattamento con mascherine costruite diciamo sul paziente, quindi personalizzate, è un'alternativa che sbianca i denti ed è più economica, è fatta da 10 mascherine precaricate da applicare una volta al giorno per 60-90 minuti. E sono le mascherine che avete appena visto nella presentazione. Bene, io vi ho parlato di questi, se volete vi parlo anche di qualche altro caso clinico o altre cose, rispondiamo alle domande delle persone collegate. Ditemi voi cosa preferite. Non ti sento Francesco perché sei con l'audio spento. Il 5 Il 5 Allora il paziente tutto è subito Tutto è subito Mi preme perché ovviamente è una cosa molto molto frequente cioè quotidianamente noi ci troviamo di fronte a un paziente che, non so, ad esempio viene e vuole i denti bianchi in 10 minuti e purtroppo qui la responsabilità è un po' anche di aziende che fanno prodotti da applicare 10 minuti sui denti, ma come avete visto è impossibile sbiancare i denti in 10 minuti, ma gli stessi pazienti potrebbero chiedervi la soluzione di un'altra condizione clinica, ad esempio una situazione parodontale complessa in una seduta. Cioè sono quei pazienti che mi dicono ma io capisco che ho qualche problema ma per me è sufficiente un'igiene, cioè io vorrei risolvere tutta la mia situazione parodontale in una seduta. Ed è ovvio che chi oggi lavora per i giorni con i pazienti capisce che questa cosa ci succede sempre più spesso perché i pazienti sono abituati un po' a delle terapie fast food, ma noi dobbiamo essere secondo me diciamo intransigenti. E quindi diciamo com'è che dobbiamo comportarci, com'è che ci comportiamo quando un paziente ci chiede di fare qualcosa in poco tempo e di ottenere un risultato adeguato. Ovviamente noi in questi casi abbiamo delle responsabilità e dobbiamo essere molto onesti, dobbiamo dire le cose come sono, quelle che funzionano. E ovviamente non dobbiamo deluderli, non vogliamo deluderli e vogliamo fare la cosa migliore per i suoi denti. Dobbiamo essere estremamente sinceri. E quindi vi ho fatto vedere prima che lo sbiancamento, diciamo quello alla poltrona, agisce bene dopo almeno 30 minuti di applicazione. Cioè è al massimo della sua liberazione dell'ossidio, quindi al massimo della sua efficacia dopo 30 minuti. Quindi come possiamo pensare di promettere ai nostri pazienti un risultato in 10 minuti? Non saremo onesti, non diremo ovviamente la verità. Abbiamo la necessità di spiegare che i trattamenti da 10 minuti, da 15 minuti non sono trattamenti sbiancanti, non funzionano come trattamenti sbiancanti, sono un'altra cosa. Poi i nomi a cui sono trattati questi trattamenti sono molteplici, ma non saremo onesti nel trattarlo come trattamento sbiancante. Sono dei prodotti che disidratano i denti e quindi dobbiamo spiegare che è un trattamento che dà buoni risultati, è un trattamento alla poltrona con eventualmente anche più sedute se necessario, o un trattamento domiciliare fatto con le mascherine. Ad esempio se voi pensate a questo tipo di paziente, che avete visto forse nelle prime diapositive, questa è una persona che si presenta e vorrebbe risolvere quel dente, ovviamente è così anche da anni, ma sapete che al paziente in un giorno viene questa esigenza, va dal dentista e dice sistemami questa cosa nel minor tempo possibile. Ecco qui se io risolvo questo dente al paziente senza rispiegare che le necessità della sua bocca sono diverse, senza gestire il sorriso come ci diceva Paolo prima, ecco io non sono il dentista adatto per questa bocca, non mi comporto correttamente. E quindi in questi pazienti la prima cosa che faccio è quella di sbiancare l'occhio e faccio un bilancio, cioè vedo qual è il trattamento successivo. Come vedete la bocca di questa paziente dopo lo sbiancamento ha già cambiato faccia, è già un altro tipo di bocca e già il trattamento è più semplice, cioè è già in discesa. E quindi a questa paziente ovviamente cosa faccio? Faccio le ricostruzioni nei settori posteriori, le quinte classi, qui le vedete già eseguite nella parte delle forzioni di denti pistali, e poi a questa paziente posso, perché posso sicuramente migliorare tutti i denti anteriori, fare un trattamento che preveda diffusione degli denti anteriori con delle faccette ad esempio. E quindi ho in questo caso dato alla paziente che è andata per un dente un sorriso diverso, di soddisfazione, una cosa che sicuramente le dà tantissimi tantissimi vantaggi. E quindi quello che noi dobbiamo dire ovviamente al paziente tutto e subito, che per fare un trattamento adeguato, serio, che abbia senso, è opportuno usare dei denti che sono quelli ovviamente che sono legati dalla chimica e dai prodotti che abbiamo in commercio. Per cui dimentichiamoci un po' i prodotti o i trattamenti sbiancanti fast, quelli troppo rapidi, non funzionano. Quindi quando rispondiamo al paziente che ci chiede per quale motivo lo sbiancamento deve essere uno sbiancamento di duratura, dobbiamo dire lo sbiancamento toglie le macchie che si sono formate negli anni alzano del dente. Il risultato che otteniamo sarà più bello e più duratura, tanto più il trattamento sarà fatto con un buon prodotto a bassa concentrazione e un trattamento prolungato nel tempo. Ad esempio un perossio di carbamide al 10%. Questo sicuramente è un trattamento migliore per questo tipo di paziente. Ecco, Francesco, io ho risposto a queste domande, credo poi magari se ci sono delle domande invece dal pubblico le possiamo affrontare, secondo me. Yes. Siamo già oltre il tempo, io comunque sono qua, per cui tranquillamente potete farmi domande. Allora, parto con una domanda della tua collega Arianna. che chiede, chi va di terapia ortodontica con allineatori, può utilizzare le mascherine di fine cura per lo sbiancamento? Assolutamente sì, se queste mascherine coprono la superficie del dente. L'unico accorgimento è quello di gestire la questione degli attachment. Gli attachment sono dei pezzettini di composito che servono per, diciamo, aiutare lo spostamento del dente. Ecco, diciamo che in letteratura c'è stato spiegato che lo sbiancamento si può fare anche se ci sono gli attachment. La mia sensazione è che sia meglio prima rimuovere gli attachment e poi dedicarsi alla terapia sbiancante. Ovviamente tutti i pazienti che fanno allineatori, tutti i pazienti che fanno allineatori, diciamo, devono fare dopo lo sbiancamento. Vuoi perché hanno già la mascherina per fare lo sbiancamento, quindi lo sbiancamento diventa più economico? Vuoi perché nel periodo che hanno portato le mascherine, gli allineatori, i denti per qualche motivo un po' si sono colorati. Ecco, se io faccio la foto all'inizio del trattamento con gli allenatori e dopo vedo che comunque durante questo trattamento per qualche motivo i denti un po' si colorano. E ovviamente quando uno ha i denti dritti, gli deve avere anche i bianchi. Per cui sì, la risposta è assolutamente sì. Fare lo sbiancamento con gli allenatori. Ottimo. Poi ho una domanda del dottor Sergio che dice Personalmente preferisco applicare con l'in office perché il domiciliare presuppone una costanza ferrea del paziente per un numero cospicuo di notti. Non sempre, altrettanto, visto che sono tanti giorni, riesce a mantenere la dieta ferrea di rinuncia di cibi, bevande e tabagismo. Questa è una bella domanda. Bellissima domanda. Bellissima domanda. Era una vecchia formamentis di alcuni anni fa questa. Esatto. 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 È una domanda però bellissima perché, grazie Sergio, perché è una domanda ottima, perché ci permette di introdurre la paura della recidiva, cioè la paura che i denti tornino a macchiarsi. E questa è una paura sia del paziente ma anche del dentista. E se ha paura il dentista, ovviamente lo trasmette al paziente. Questa, come dicevi Francesco, è una cosa, una vecchia credenza che era legata a dei prodotti, purtroppo, che tendevano a disidratare il dente, a lasciare, diciamo, uno smalto che tendeva ad assorbire le macchie. Mentre sappiamo che oggi, se usiamo dei prodotti come questi, il dente e lo smalto vengono assolutamente rispettati al 100% e quindi l'utilizzo di eventualmente cose colorate non va assolutamente a inficiare il nostro trattamento spiancante. Quello che io dico al paziente, diciamo, la risposta che do al paziente quando mi pone questo dubbio o io spiego che cosa fare durante il trattamento spiancante, io dico al paziente di fare assolutamente la sua vita normale. Quindi lì, bere il caffè, se bere il caffè, il vino, però per dargli un po' di attenzione, ma non perché ho paura che si mattino i denti, giusto per dargli un po' di rigore in quello che è il trattamento, dico di, invece di farti 4 caffè, bevi ne 3 e invece di bere il vino rosso, bevi il vino bianco. Io sono sicuro che il vino rosso non dà nessun tipo di ostacolo al mio sbiancamento perché i miei pazienti fanno la loro vita normale e ottengono il risultato di sbiancamento. Però ovviamente lo faccio per dare un po' di rigore alla questione, per fare in modo che il paziente prenda, diciamo, sul serio il trattamento che sta facendo. L'obiettivo è proprio questo. Quello che dico anche ai pazienti in termini di durata del trattamento sbiancante, quando il trattamento è fatto con questi prodotti e secondo le regole che io vi ho detto, ovviamente, è quello che il trattamento sbiancante nei miei pazienti, diciamo, dura 2-3 anni, cioè i pazienti dopo 2-3 anni sono ancora contenti. Ed è vero perché di fatto se il trattamento è fatto bene, i prodotti sono corretti, il paziente dopo qualche anno torna a farlo. È ovvio che c'è il paziente che vuole fare un richiamo ogni anno e noi glielo facciamo fare, anche se ha i denti bianchi, se i denti non sono diventati scuri, ovviamente io ogni anno lo faccio fare al paziente che lo richiede, che vuole farsi quel tipo di trattamento. Sì, perché anche c'è il discorso del pH, giusto? Che alla fine non va... Esatto, esatto, esatto. Diciamo che i prodotti sbiancanti con un pH neutro, come quelli di cui stiamo parlando oggi, sono rispettosi dello smalto e quindi, diciamo, non mordentano lo smalto e non si attaccano le macchie. Per cui, su quello che riguarda le indicazioni durante il trattamento, potete stare assolutamente rilassati che non cambia per niente. Questo lo vedo sia nei miei pazienti e nei trattamenti che facciamo, tutte le persone. Io in questo momento sto portando le mascherine, degli allineatori e ogni tanto faccio lo sbiancamento. Per cui vi do conferma e non ho sicuramente cambiato le mie abitudini. Ecco, assolutamente. Sì, di fatti c'è anche un'altra domanda del dottor Vincenzo. che chiede qual è il gap giusto per creare i serbatoi nelle mascherine, ma negli allineatori, visto che questo gap è quasi nullo. Come si fa? Qui rimanderei quello studio del professor Levrini. È presente? Dove è finito, Pietro? L'impressione che sia accaduto, però momentaneamente. Stavo dicendo al dottor Vincenzo che il gap all'interno dell'Invisalign è quasi nullo, ma è più che sufficiente per far alloggiare il gel. Lo spessore invece del gap, dei serbatoi, fa benissimo uno 0,5, ovvero con la resina LC Blockout che è all'interno dei kit, basta andare a sporcare il gesso, polimerizzare, è quello è più che sufficiente. Perché non è importante la quantità di materiale che si inserisce nelle mascherine, ma il tempo di contatto con l'elemento. E dicevi anche che ci sono degli studi scientifici appunto che vanno... Sì, c'è un bellissimo studio del professor Levrini che si trova, dove fa proprio tutta un'analisi a elementi finiti sulle quantità di prodotto e dove posizionarlo in base alla tipologia di device che si utilizza per applicare il jazz biancante. e dopo lo possiamo agevolare anche. Ho l'impressione che abbiamo perso, Pietro. Sì, sta arrivando. Ah, ottimo. Mi sta scrivendo. Ok, ci chiedono la vera Serbia. Grazie, Alexander. Anche al dottor Rodolfo che chiede col perossido al 10 quanti giorni di trattamento e con quale frequenza. Indubbiamente in questa... Con lo sbiancamento bisogna personalizzare i trattamenti il più possibile perché non posso dirvi fate 10 giorni e stop. Se il paziente parte da una due ovviamente avrà meno giorni di trattamento rispetto al paziente che parte da un B4. L'importante è che quando si parte bisogna proseguire in maniera costante e non farlo un giorno sì, tre giorni no e via discorrendo. Ci sei, Pietro? Mi fai partire il video. Perdonatemi. Un secondo, ma ci sono. Cosa mi sono perso? La parte più bella. Deve essere proprio la giornata. È vero, è vero, è vero. È vero. Comunque dai, direi che ci sono. C'è qualche altra domanda? Io sono qui. Ok. C'è Antonio che dice che il suo tecnico ha qualche difficoltà nel realizzare i margini delle mascherine perché rimangono sempre aperti e quindi si infiltra il gel. e se c'è qualche suggerimento in merito. Sì, ce n'è più di qualche... Ecco, è il caso che magari ci si possa sentire, diciamo, al di fuori del webinar perché sarebbe una cosa molto lunga da spiegare. Per cui io vi lascio, diciamo, i miei riferimenti, la mia mail e poi comunque, diciamo, io sono sempre connesso, diciamo, con Nutren, per cui se ci sono le richieste da parte di Nutren da girarmi, ovviamente io ci sono. Qui vi metto anche un link di una mia lezione sulle faccette, mentre vi ringrazio. Per cui, diciamo, per i colleghi che hanno qualche domanda ampia come questa delle mascherine, potete mandare una mail e vi posso mettere in contatto eventualmente col mio tecnico, ecco, che gestisce le mascherine. Io ovviamente ho un laboratorio all'interno dello studio e le mascherine le faccio all'interno dello studio. però all'inizio comunque è corretto che sia il tecnico a gestire questo aspetto. Ok. Ci sono altre domande, Francesco? Io sono qui, eh. Ho letto prima, mentre alcuni colleghi chiedevano quante siringhe domiciliari vengono lasciate al paziente, quanto dura un trattamento. È una domanda che ho visto. Diciamo che un trattamento adeguato prevede l'utilizzo di 6-8 mascherine, 6-8 siringhe, mediamente. Questa è la media. Ovviamente ci sono pazienti che usano più gel e pazienti che usano meno gel. Ecco, al paziente non dovete mai legarlo al numero di siringhe, ma dovete legarlo al risultato. Quindi voi come dentisti dovete vendere, proporre il risultato del trattamento, che non sono il numero esatto di siringhe, ma il risultato che dovete ottenere. Perfetto. Va bene. Poi c'era una domanda discromina di tetracicline, ok, perseverare. Sì, esatto. Discromina di tetracicline, andare avanti, proprio convinti. Trattamenti a bassa concentrazione per lungo tempo, quindi mascherine, possibilmente. pazienti con dente devitalizzato e o corone corone non le sbianchi. Ecco, le corone non si sbiancano, assolutamente. Gli elementi invece devitalizzati sì, si sbiancano. Si sbiancano bene e rimangono bianchi nel tempo. Ovviamente c'è una procedura che prevede l'utilizzo di determinate anche qui se dei colleghi hanno delle necessità specifiche possono chiedermi, ecco, mandarmi una mail. Poi c'è una domanda che avevi già risposto ma la possiamo anche chiarire nuovamente. Il richiamo dello sbiancamento, dopo quanto tempo bisogna farlo? E nel caso di sensibilità prima e durante e dopo, come le gestisci? Ok, allora, il richiamo dello sbiancamento potrebbe essere che qualche paziente dopo alcuni anni, due, tre, quattro anni vi chieda di rifare lo sbiancamento. Ma ci sono anche i pazienti che ve lo chiedono dopo un anno, generalmente d'estate. Questo è un periodo in cui lo sbiancamento aumenterà tantissimo perché verso l'estate i pazienti vi chiederanno tanto sbiancamento. Ecco, se un mio paziente che l'anno scorso ha fatto lo sbiancamento e quest'estate vuole fare un richiamo, io consegno magari una o due siringhe, quindi fanno esattamente tre, quattro, cinque notti di richiamo e ottengono di nuovo diciamo il sorriso quindi veramente molto, molto bianchi. Dopo un anno non è necessario ripetere il trattamento, cioè i denti sono ancora bianchi, però ovviamente otteniamo un miglioramento del risultato. Per cui anche dopo un anno io faccio rifare tranquillamente l'ostbiancamento se il paziente lo desidera. Per quello che riguarda la sensibilità diciamo va fatta sicuramente una buona anamnesi e diagnosi del paziente ma la sensibilità se usate prodotti a bassa concentrazione quindi un per osseo di carbamilia 10% sono assolutamente limitatissimi nei casi cioè pochissimi casi di sensibilità. Se fate un trattamento domiciliare la sensibilità durante il trattamento la trattate con la sospensione di una notte quindi il paziente fa una notte di trattamento una notte sospende una notte di trattamento e alterna le notti. Vi devo dire che nel 100% dei casi di sbiancamento la sensibilità durante il trattamento capita in 1-2% dei casi e generalmente si passa facendo questa cosa che vi dicevo cioè sospendendo una notte già una notte è sufficiente. Dopo il trattamento ecco non mi capita di avere sensibilità devo dire cioè alla sospensione del trattamento sbiancante non ho più sensibilità assolutamente nel caso dei pazienti sensibili molto sensibili o che hanno molta paura di sensibilità possiamo utilizzare un prodotto desensibilizzante che in questo caso è UltraEZ che è diciamo commercializzato la cosa più comoda sono delle siringhe che sono simili a quelle del prodotto sbiancante Francesco se vuoi scriverlo UltraEZ nella chat perché so che senza ecco questo prodotto viene messo all'interno della mascherina così come se fosse il jazz sbiancante e può essere lasciato anche per 5 minuti all'interno della mascherina ma anche tutta la notte e riduce di tanto un'eventuale sensibilità che potrebbe avere il paziente per cui diciamo ecco come prodotto desensibilizzante questo è il migliore ovviamente nel caso di potassio in tratto di potassio al 5% sì UltraEZ devo dirvi che io ho sempre questo prodotto in studio lo tengo perché è un prodotto comunque utile anche in caso di alta sensibilità il mio utilizzo nell'arco di un anno credo che sia due volte ecco e io di sbiancamente ne faccio tantissimi tantissimi per cui direi che capita la sensibilità è una cosa davvero che capita poco se fate le cose fatte bene la domanda delle domande vai range di costi verso il paziente delle tre tipologie ottimo di trattamenti volevo dirlo volevo dirlo io per anticipare la domanda delle domande comunque allora vi do due o tre regole in modo tale che abbiate la vita più semplice allora il trattamento sbiancante nel mio studio è 500 euro che sconto a 400 euro per i miei pazienti simpatici ma lo posso fare praticamente a tutti perché mi stanno quasi tutti simpatici però faccio capire che c'è una promozione nei loro confronti e costa 400 euro diciamo sia che facciano il trattamento alla poltrona sia che facciano il trattamento domiciliare a casa perché quello che io propongo al paziente è ovviamente il risultato del trattamento che poi io ci metta due sedute una seduta ovviamente queste sono diciamo cose che gestisco io spingo molto di più il trattamento fatto a casa perché mi permette diciamo un contenimento dei costi se posso se posso dire e in questo modo evito che il paziente scelga il trattamento sulla base del costo cioè che scelga il trattamento più economico perché se io faccio un trattamento a 500 e uno a 200 il paziente tende a scegliere quello a 200 ecco il costo che propongo io in studio è un costo che è legato un po' alla mia realtà alla mia posizione geografica per cui in Italia troviamo realtà con dei costi che sono il triplo di quelli che faccio io e costi che sono anche il 20, 30, 40% di meno di quello che faccio io per cui ovviamente diciamo sì è bellissimo il discorso che fai per evitare la discriminante prezzo certo perciò alla poltrona o il domiciliare allo stesso costo l'alternativa è quella del go che bisogna che tu lo abbini alla seduta di igiene una tantum per far felice il paziente simpatico questo è un altro capitolo sì qui ovviamente capito il prezzo a cui lo compro non avendo costi di gestione perché ovviamente è una cosa che io consegno al paziente posso gestire il prezzo più diciamo senza tenere in considerazione il costo della poltrona per cui è molto più facile e ogni dentista può farsi il suo prezzo ecco adesso magari tu Francesco sai meglio come in Italia ha distribuito il prezzo al paziente come hai detto tu come hai detto tu sono quelli lì a parte per il go che appunto perché quando uno ti chiede le informazioni sullo sbiancamento tu gli fai tutta la lezione eccetera la seconda domanda è quanto costa e quando mi rispondi 500 io ti dico ci devo pensare chiaro chiaro il ci devo pensare equivale ad andarsi a provare un paio di pantaloni nella boutique nel quadrilatero della moda e poi andare da H&M esatto esatto beh no ovviamente noi al paziente dobbiamo offrire l'opportunità di fare un trattamento sbiancante anche ad un posto inferiore ne abbiamo ovviamente parlato ma infatti ha il senso per il quale è nato l'Opale Science Go per poter offrire lo sbiancamento a tutte le categorie di pazienti esatto e da esperienza vedo che chi fa l'Opale Science Go poi chiede quel qualcosina certo esatto la mia esperienza è esattamente esattamente questa per cui e la diga del prezzo sì sì è un invito diciamo ovviamente concreto poi magari effettare un trattamento diverso o a fare o a fidarsi comunque del collega ecco ovviamente insomma credo che facendo trattamenti sbiancanti questo è un consiglio che posso dare ai colleghi facendo trattamenti sbiancanti quindi lanciandosi un po' nei trattamenti sbiancanti sarà una cosa automatica franne degli altri cioè fatti dei trattamenti fatti bene ma come ogni terapia che facciamo ai nostri pazienti il risultato poi ci permette di acquisire i familiari i parenti gli amici e quindi diventa proprio una cosa molto molto semplice si tratta anche un po' di lanciarsi per chi non lo fa ecco lanciarsi fare trattamenti e sapere che questi trattamenti poi porteranno altri risultati altri trattamenti ultima perché poi tutti dobbiamo andare a lavorare che era interessante macchie da fluorosi marroni si ha qualche effetto allo sbiancamento allora la macchia dipende un po' da diciamo da cosa c'è anche attorno alle macchie marroni è un argomento un po' articolato però diciamo che quando ci sono delle macchie il ragionamento deve essere sempre quello che facciamo quando ci sono delle otturazioni da fare cioè il ragionamento è sbianchiamo tutto vediamo qual è il risultato partiamo dai denti bianchi e lì ragioniamo cioè sbianchiamo la macchia marrona è evidente non evidente il paziente è già contento se il paziente è già contento ci fermiamo se il paziente ancora nota che questa macchia è visibile allora gestiamo la macchia marrone con la conservativa o la protesi sulla base del grado però lo sbiancamento è sicuramente molto molto utile diversamente se gestiamo la macchia marrone e ovviamente anche qui dipende dalle profondità della macchia quindi stiamo parlando in maniera un po' generica se io tratto la macchia marrone su un dente che è scuro mi troverò poi a dover gestire magari dopo qualche anno come dicevi un dente scuro su cui ho fatto un trattamento per cui oggi secondo me abbiamo la responsabilità di sbiancare i denti prima di fare un trattamento per come siamo per come oggi se 20 anni fa quando abbiamo iniziato a fare sbiancamenti un po' ci preoccupavamo della recidiva del dentè oggi invece dobbiamo preoccupare dobbiamo preoccuparci quando non facciamo un trattamento sbiancato e facciamo magari un'otturazione e poi dobbiamo ritornare sul paziente due volte esattamente credo che ormai queste cose le vivi tutti i giorni tantissimo perché adesso la la gestione dello smalto di tutte le lesioni dello smalto che siano dalla piccola white spot post ortodonzia facile da trattare dalle MIH o dalle florosi se ne parla sempre di più sempre di più come dicevi te nelle macchie da florosi la conservativa è risolutiva oppure anche la microabrasione con le pastine tipo opalustre che fai una microabrasione chimico-meccanica abbinata allo sbiancamento certo sì assolutamente ci sono diverse possibilità bisogna partire sempre dalla minima invasività bravo bravo diciamo bisogna partire sempre dallo sbiancamento per curiosità leggevo una diciamo un protocollo di un'azienda che fa resine infiltranti non è stato capitato e anche questa prevede come protocollo prima lo sbiancamento sì cosa che diciamo ormai da dieci anni è vero sì sì perché anche con con le white spot white spot su dente giallo è evidente white spot su dente bianco 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 è meno evidente poi ovviamente ci sono tutti gli altri trattamenti esatto che dire se il metro di successo di un webinar viene dato dal numero di domande direi che ha dato veramente ogni più roseo obiettivo e soprattutto ci sono ancora 400 persone collegate vedo qui dal totalizzatore quindi ringrazio tanto gli 800 dell'inizio webinar quanto soprattutto i temerari che sono rimasti fino alle 3 insieme a noi Francesco se mi permetti volevo ringraziare Dental Leader che ci ha ospitato e te che come sempre nonostante il gap mio iniziale hai gestito magistralmente ma è colpa mia per carità questo webinar ti ringrazio veramente tantissimo e ovviamente Pietro che come sempre ci ha illuminato nel vero senso della parola grazie grazie a voi davvero è sempre un piacere per me grazie anche a Francesco grazie a Paolo per l'opportunità a voi grazie grazie mille buon pomeriggio buon lavoro ciao a tutti ciao facciamo un termine grazie Pietro grazie a tutti